Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca che ci porta a Tortoreto è rimasto ferito ad una gamba. Un 24enne albanese raggiunto da un commando e gambizzato all'interno dello stabilimento balneare Maristella. La lite sarebbe nata in altre zone della città e culminata nello chalet dove il 24enne ha cercato riparo. I tre componenti e la spedizione punitiva sarebbero già stati identificati dai carabinieri. Vediamo il servizio. Sembra ci sia un regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga dietro la sparatoria che si è consumata ieri sera a Tortoreto all'interno dello stabilimento Maristella dove un 24enne albanese sotto protezione è stato gambizzato da un commando di tre persone e forse dei connazionali. Il ragazzo ha scelto come rifugio lo chalet nel tentativo di scampare all'agguato, ha assaltato il bancone del bar e si è nascosto dietro la spillatrice. I tre però lo hanno raggiunto e da corta distanza nel fuggi-fuggi generale, dovuto al panico, hanno esploso un colpo di pistola calibro 7,65 che ha perforato la gamba del 24enne, proiettile che è poi stato recuperato dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica che stanno indagando sull'accaduto. Gli attimi di paura nel racconto del proprietario dello stabilimento balneare, testimonianza raccolta da cityrumors.it. Le persone che non abbiamo mai visto, che non hanno mai frequentato il nostro stabilimento, probabilmente da quello che abbiamo potuto capire noi, era un ragazzo che per loro motivi scappando si è rifugiato qui nel nostro stabilimento perché era aperto ed era pieno di gente, magari lui ha pensato in mezzo alla polla non succede niente, sono entrate invece tre persone di cui una ha tirato fuori una pistola ed è partito un colpo. Dopodiché c'è stato lo scappa-scappa generale di tutti, compreso me, quindi da quel momento in poi so soltanto che loro tre sono scappati appena sparato il colpo e l'altro è scappato pure, quindi non credo che sia stato ferito in maniera grave. Altro, noi non sappiamo che ci siamo solo spaventati, è finita lì la serata. Nella sparatoria sembra siano coinvolte quattro persone, tre inseguitrici ed una alla guida della vettura con cui i malviventi si sono dati alla fuga. Il 24enne albanese è dapprima scappato a piedi sanguinante per poi fermarsi ad un centinaio di metri e chiedere aiuto prima dell'intervento del 118. Trasportato in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione. È stato già ascoltato dagli inquirenti, mentre gli stessi militari sembrano già sulle tracce del commando che ha messo in atto la spedizione punitiva per una contesa nata in altre zone del territorio e solo per caso culminata nello chalet di Tortoreto. Proseguiamo con la sanità. L'ASL di Pescara ha consegnato questa mattina cinque nuove ambulanze che serviranno a migliorare il servizio di emergenza-urgenza. Dovrebbe tornare in funzione a breve anche l'eliporto dell'ospedale. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Si rinforza il 118 di Pescara con cinque nuove ambulanze che serviranno per migliorare ulteriormente il servizio emergenza-urgenza, grazie anche alle sofisticate dotazioni presenti all'interno dei nuovi mezzi. E intanto potrebbe tornare a breve in funzione anche l'elisuperficie dell'ospedale civile di Pescara. Sì, è un servizio che sicuramente avrà un grosso vantaggio perché avremo cinque nuovi mezzi che si andranno ad aggiungere a quelli già in possesso dell'ASL e quindi copriremo un territorio maggiore con maggiore efficienza e maggiore efficacia. Sono tutti modelli A1, cioè medicalizzati per il soccorso avanzato, dotati di più moderne tecnologie. Quindi è un post avanti veramente per il soccorso per la popolazione che ne dovesse aver bisogno. Quasi 100.000 accessi l'anno, siamo il tredicesimo pronto soccorso d'Italia. Quando pensiamo a quelli che sono le immaginazioni collettive più importanti ospedali, tipo Enniguarda, Le Molinette, il San Raffaele, Olgemelli, sono tutti dietro a noi come numero di accessi. Quindi veramente una struttura importante che serve non soltanto alla provincia di Pescara ma essendo sede ABB di Trauma Team di tutto l'Abruzzo, quindi tutti i pazienti più gravi confluiscono da noi. Sicuramente sono mezzi che vanno ad ampliare il nostro parco mezzi della AS di Pescara del 118 e dall'opportunità di lavorare meglio a personale in maniera molto migliore considerando pure che queste ambulanze sono state dotate dei migliori accessori, dei migliori apparecchiatori elettromedicali adesso esistenti in commercio oltre anche al software della centrale operativa che interagisce con queste ambulanze tramite dei tablet che hanno la possibilità in pratica di gestire meglio il mezzo con tutti i dati che occorrono in merito all'intervento e anche la geolocalizzazione del mezzo nel momento istantaneo. Ogni 30 secondi sappiamo il mezzo dove si trova. A margine della consegna delle ambulanze al 118 questa mattina il manager della ASL pescarese Armando Mancini finito nell'occhio del ciclone del centro-destra che si aspetta un suo passo indietro ha preferito non commentare. In verità c'è una fase che si chiama di contraddittorio in cui gli uffici regionali danno una valutazione in punteggi di un operato e poi la norma vuole che noi si faccia un contraddittorio se si facciano delle contraddeduzioni che dureranno 20 giorni, un mese all'esito delle quali poi la giunta valuterà sulla base dell'istruttoria fatta dagli uffici regionali dove è la ragione e dove è meno. Quindi diciamo che la questione è ancora aperta. Le altre considerazioni le lascio a voi. Ma le hanno chiesto ufficialmente un passo indietro? Ma guardi, quando si è insediata questa giunta hanno chiesto un passo indietro a tutti coloro che erano stati nominati dalla precedente amministrazione. Adesso ci sono nomine che sono nomine che si chiamano spoil system quindi che dipendono e ci sono altri che sono contratti di lavoro quale è quello che io ho. Andiamo avanti, restando sempre nel campo della sanità ci spostiamo in Molise dove chiude per carenza di medici il punto nascite dell'ospedale di Termoli. Il provvedimento è stato firmato dal commissario alla sanità per il Molise Angelo Giustini che ieri sera ha partecipato a un incontro in comune convocato dal sindaco di Termoli Francesco Roberti con oltre 30 amministratori locali e alcuni primari. Il 30 di giugno saranno possibili gli ultimi ricoveri di donne in gravidanza dal primo al 7 di luglio posto per gli ultimi nati poi le pazienti dovranno decidere a quale ospedale rivolgersi e il servizio potrebbe gravare anche sull'ospedale di Vasto che è molto vicino a Termoli. Allora andiamo a sentire insieme il servizio di Fabrizio Occhionero. Chiude il punto nascita dell'ospedale Santimoteo di Termoli è quanto stabilisce il provvedimento a firma dei commissari Angelo Giustini e Ida Grossi e trasmesso al direttore generale dell'ASREM Gennaro Sosto e per conoscenza al governatore Donato Toma. Una decisione nell'area da tempo ora formalizzata che rappresenta una sconfitta concreta per tutto il Molise e che ancora una volta ha scatenato solo un rimpallo di responsabilità politiche e scarica barile. Alla base del decreto vengono riportati parametri nazionali non rispettati che prevedono almeno 500 parti all'anno ma anche la carenza ormai cronica di personale dell'unico ospedale rimasto in Basso Molise e i vari tavoli tecnici in cui era stato già affrontato il problema. Al Santimoteo di Termoli in sostanza non nasceranno più bambini. una decisione al centro di un incontro tenuto in sala consigliare tra numerosi sindaci, commissari e i vertici ASREM. Guardate c'è il sindaco, i sindaci... Voi siete il commissario della sanità. Chiediamo se è confermata la chiusura. Che cosa avete comunicato oggi? Niente di più e niente di meno. La chiusura dal punto nascita. Da quando? Ma scusate se è già firmato. Da quando? Vogliamo una conferma e ci sono margini per un ripensamento. Il sindaco che è lì con i sindaci vi diranno tutto. Ci sono i margini per un ripensamento? Buonasera. La comunicazione dei commissari darà ora corso lo smantellamento del punto nascita con tutte le inevitabili conseguenze per le mamme in attesa che a questo punto potranno partorire a vasto o a campo basso. Il 30 giugno è l'ultimo giorno in cui possono essere effettuati ricoveri per donne che devono partorire. Stiamo parlando di punto nascita, non parliamo del reparto di ostetricia e ginecologia. Le cose sono ben diverse. Purtuttavia siamo arrivati a questa soluzione drastica. Speriamo che abbia un ritorno, cosa che sicuramente non vediamo vicino. e comporterà che poi nella prima settimana di luglio, quindi dal 1 luglio al 7 luglio, dobbiamo smaltire qualsiasi attività nei confronti di donne in gravidanza. Significa che dall'8 luglio, se ci sono ancora presso il reparto di ostetricia di termoli delle pazienti gravide, dovranno essere trasferite. Di conseguenza immagino che gli ultimi nati di termoli saranno non oltre i primi di luglio. Sposteremo l'attenzione dai tavoli molisani, istituzionali molisani ai tavoli romani. Abbiamo avuto quattro ore di confronto con i tecnici della sanità, quattro ore dove i sindaci del Basso Molise hanno cercato di difendere il nostro ospedale e continueremo a farlo. Da un punto di vista politico nazionale, a partire dal ministro Grillo dei Cinque Stelle e al MEF, questa regione, per loro non esiste. Salvo quando ci chiedono di fare sacrifici. Intanto lunedì alle 10 è prevista una manifestazione organizzata dal gruppo Facebook delle mamme davanti all'ospedale, dove a breve non potranno più nascere bambini. I sindaci sono pronti a condividere azioni di protesta più incisive, ma la strada è ormai segnata e richiama un'attenta e amara riflessione. Siamo pronti anche a formulare le nostre dimissioni di tutti e 80 i sindaci dei comuni del Basso Molise, andare dal Presidente della Repubblica Mattarella e ci dovrà garantire che non esistono cittadini di serie A e di serie B, ma che anche noi abbiamo dignità in questa nazione e soprattutto abbiamo la necessità di salvaguardare la salute dei nostri cittadini, il futuro dei nostri figli, il futuro di questo territorio. Adesso voltiamo pagina e ci spostiamo a Teramo, dove il Consiglio Comunale ha ribadito un secco no alla fusione tra le Camere di Commercio di Teramo e l'Aquila. L'amministrazione d'Alberto ha chiesto ufficialmente al Regione e Ministero di annullare l'iter di accorpamento tra i due enti. Il servizio è di Tania Bonnici-Castelli. No alla fusione tra le Camere di Commercio di Teramo e l'Aquila, a ribadirlo il Consiglio Comunale di Teramo attraverso una dettagliata relazione del consigliere di maggioranza Andrea Core che sottolinea quale grave perdita si prospetta per il territorio teramano a causa di questo accorpamento che pur avendo il maggior numero di aziende rispetto a quello aquilano sarebbe privato della sua sede camerale. Camera di Commercio, fusione Teramo e l'Aquila, insomma una fusione che non si deve assolutamente fare secondo voi? No, assolutamente, come il Consiglio Comunale siamo pronunciati in senso nettamente contrario rispetto a questa fusione. Purtroppo la pronuncia è arrivata solo oggi con due anni di ritardo, però ci siamo voluti assumere la responsabilità politica in rappresentanza dell'istituzione e quindi della comunità teramana tutta di ribadire come non possiamo perdere l'ennesimo presidio sul territorio che oggi è rappresentato dalla Camera di Commercio. Questa fusione non ha un senso, una logica né da un punto di vista economico né da un punto di vista storico. Stiamo affrontando una delle crisi economiche peggiori dell'ultimo secolo in un territorio colpito prima dalle calamità del 2009, poi da quelle del 2016, calamità sismica e calamità neve e quindi abbiamo un tessuto produttivo fortemente provato, messo in ginocchio che con difficoltà sta provando a ripartire. Eliminare la Camera di Commercio significherebbe far vivere un senso di abbandono che non è più tollerabile, abbiamo la necessità di salvaguardare questo presidio sul nostro territorio. Questa è la vostra idea, ma chi avrà l'ultima parola? L'ultima parola l'avranno le organizzazioni che compongono gli organismi camerali della Camera di Commercio, l'avrà la Regione e l'avrà la Regione Abruzzo e in particolar modo anche il Ministero dello Sviluppo Economico. Per questo siamo intervenuti nello stesso ordine del giorno chiedendo sia agli organismi camerali di rivedere la loro decisione verso il percorso di fusione, sia nei confronti della Regione Abruzzo chiedendo che intervenga con una sospensiva, così come ha fatto la Regione Emilia-Romagna, che nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico perché sia rivista l'intera normativa nazionale. Il percorso di fusione delle Camere di Commercio, a nostro avviso, rischia di essere un percorso assai simile a quello già visto per le province, davanti a un interesse che è quello di contingentare i costi si vanno a tagliare degli enti che invece offrono dei servizi concreti alla collettività, alla cittadinanza e poi necessariamente si è costretti a fare un passo indietro. Avere quel senso di responsabilità, di rendersene conto immediatamente, può essere utile al Paese. Cambiamo argomento, acque eccellenti a Fossa Cesia, ma problemi di parcheggi che scarseggiano a causa della realizzazione della Via Verde. Dunque da un lato le notizie positive certificate dall'Arta, dall'altra parte invece le problematiche ancora una volta legate ai parcheggi nella stagione estiva. Vediamo il servizio. Acque eccellenti, nuovi stabilimenti e concessioni, la Via Verde in via di completamento, un crescente afflusso sia regionale che oltre confine. Fossa Cesia-Gongola, pregustando una grande stagione balneare, forte dei risultati delle analisi dell'Arta eseguiti lo scorso 12 giugno che confermano come sia eccellente la qualità delle acque marine del litorale di Fossa Cesia Marina. I prelievi effettuati in tre zone differenti e basati su una classificazione della balneabilità delle acque che va da scarsa ad eccellente, hanno infatti riportato in tutti i punti esaminati i valori ottimi. Garantire acque limpide e litorale pulito sono le condizioni indispensabili per un turismo in crescita e per livelli imprenditoriali ed occupazionali. La conclusione dei lavori per il nuovo depuratore che dovrà congiungere Torino di Sangro con Fossa Cesia sarà un'ulteriore garanzia per la qualità della balneabilità. Restano però da risolvere alcune grane, prima tra tutte quella dei parcheggi non più sufficienti. La pista ciclabile ne ha sottratti centinaia e in precedenza, cosa strana, non si era pensato a trovare aree soluzioni alternative. Il sindaco Enrico Giuseppe Antonio. Il turismo deve servire per creare come spesso sottolineo occupazione e ricchezza, anzi c'è un aumento importante dei giovani che lavorano nel periodo estivo soprattutto sul lungomare di Fossa Cesia. Ci sono però dei problemi che vanno risolti. Uno dei problemi che riguarda il parcheggio sul lungomare deve essere risolto dalla provincia. Sto sollecitando il Presidente a farlo rapidamente. Non si può aspettare tempo, non solo nella parte che riguarda Fossa Cesia, ma lungo tutta la costa. Senza individuare i parcheggi che ci sono, rischiamo di soffocare una parte importante della nostra economia. Anzi, chiederò ulteriormente al Presidente Pupillo di incontrare tutti i sindaci interessati alla Via Verde. Adesso cambiamo ancora una volta argomento. La Camera di Commercio di Chieti Pescara in collaborazione con il Centro Estero delle Camere di Commercio d'Abruzzo ha organizzato un workshop intitolato India, un interessante mercato per i vini abruzzesi. L'obiettivo della giornata è quello di informare le aziende sulle opportunità d'affari in India con un focus particolare per i produttori di vino, grazie alla presenza di esperti internazionali accompagnati da un noto importatore vitivinicolo indiano. Vediamo. I vini abruzzesi sono pronti a sbarcare in India, un paese che ha grandi possibilità proprio per quanto riguarda le aziende vitivinicole della nostra regione. E' così? E' questo il senso di questo workshop che c'è oggi a Pescara. Il feeling è che in questo momento l'India ha molte possibilità per essere conosciuta anche dall'Abruzzo, però come seconda regione, perché in questo momento gli unici vini abruzesi italiani che sono conosciuti in India sono quelli toscani, dove hanno un maggiore marketing, un maggiore appinto. Però c'è sempre spazio per tutto e lui spera che anche i vini si sbaccheranno in India. In generale il vino sta iniziando a fare breccia tra la popolazione indiana, è una bevanda che si comincia a conoscere e ad apprezzare? Il vino soprattutto nei giovani sotto i 35 anni sta diventando molto popolare e sta sostituendo il whisky, il cognac. Quindi per ogni evento sociale utilizzano il vino per divertirsi e ci sono all'incirca 400 milioni di giovani che stanno iniziando a bere del vino. E' veramente quello asiatico il mercato in cui i nostri prodotti possono davvero fare la differenza? Beh sì, questo è noto, è un mercato assolutamente in evoluzione. Noi nei primi anni dei progetti Ocm abbiamo puntato molto sui paesi del Nord America, adesso stiamo puntando su questi asiatici, crediamo che la risposta ci sarà e speriamo insomma che ci sia valore aggiunto vero per le nostre imprese. Parata di grandi stelle nazionali ed internazionali al Città Sant'Angelo Village Outlet che dal 13 luglio al 15 agosto ha organizzato il Live Festival 3. Vediamo. DJ Time, Giussi Ferreri e Alvaro Soler sono i tre eventi clou del Live Festival 3 organizzato dal Città Sant'Angelo Outlet Village dal 13 luglio al 15 di agosto che prevede concerti live con grandi artisti nazionali ed internazionali ed eventi a tema oltre a spettacoli live nel Borgo e nella Food Court prevedendo per le serate degli eventi e l'apertura dei negozi fino alle ore 24. Musica, spettacoli e shopping dunque seguendo la vocazione dell'outlet che si conferma sempre di più un centro di intrattenimento e soprattutto un aggregatore turistico. Si parte in occasione del weekend di sabato 13 e domenica 14 luglio con un'estate italiana che partirà alle ore 10 con il raduno d'auto d'epoca e dalle 18.30 con l'evento vero e proprio dedicato all'arte degli anni 60, 70 e 80. Poi spazio alla musica dei DJ di Radio DJ alle ore 21 del 21 luglio con il Summer Tour 2019, il 27 di luglio sempre alle 21 appuntamento con Giussi Ferreri e poi il 6 di agosto sempre alle ore 21 il concerto di Alvaro Soler che chiude la rassegna dei grandi concerti. Infine il 15 di agosto a partire dalle 18.30 ci sarà la grande festa di Ferragosto con il Cocomero Party. Il turismo va valorizzato e noi le dimensioni, le nostre disponibilità e gli spazi che abbiamo a disposizione ci consentono di poter amplificare questo argomento. A livello nazionale sicuramente Radio DJ con i 4 big della radio e quindi Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso ma ovviamente Giussi Ferreri il 27 di luglio. Chiuderemo la stagione estiva con un concerto big, con un big internazionale che farà 5 tappe in Italia tra cui la nostra il 6 di agosto. Sicuramente è un appuntamento importantissimo con un ospite internazionale. Siamo arrivati alla pagina dello sport. Iniziamo dal calcio e dalla serie B. Spero possano venire da noi. Così si è espresso il presidente delle Pescara Daniele Sebastiani interpellato da Radio Marte sui giocatori di proprietà del Napoli, Tutino e Palmerio. Intanto si fa difficile la trattativa per portare in bianca azzurro l'attaccante Iemmello, mentre il terzino del grosso deve decidere se accettare o meno la proposta del Monza. Il punto nel servizio di Andrea Costantini. C'è anche il Perugia di Massimo Oddo sul centravanti Pietro Iemmello. Si fa più complessa la pista che porta al centravanti di proprietà del Benevento. Il presidente dei Sanniti Vigorito tratta l'acquisto del capitano del Pescara Gaston Brugman e Iemmello e una importante contropartita tecnica nell'operazione. Ma nelle ultime ore il Perugia ha messo sul piatto una operazione analoga, con nell'esterno degli Umbri Marcello Falzerano proposto al Benevento per avere Iemmello. Il centravanti sarebbe un colpo importante per il Delfino, ma non a costo di pagare un ingaggio troppo alto. Senza dimenticare che il cuore di questa operazione è Gaston Brugman. Il sacrificio del giocatore uruguayano sarà fatto solo in caso di massima soddisfazione per società e calciatore. Le alternative non mancano, anche per chiudere la trattativa con soli soldi, non meno di 3 milioni la richiesta del presidente Sebastiani e alla nutrita schiera di pretendenti in Italia ve ne sono alcune anche all'estero, ad esempio l'Eibar, squadra della Liga Spagnola. Intanto, quasi a sorpresa, il Pescara rischia di perdere Cristiano Delgrosso. L'esperto terzino di Giulianova, in scadenza al 30 giugno, ha il rinnovo pronto per essere sottoscritto con il Delfino, come anticipato dal presidente Sebastiani, ma ha anche ricevuto una offerta allettante dalla Serie C dall'ambizioso Monza di Berlusconi. Sarà lo stesso Delgrosso a dover scegliere tra la proposta economicamente vantaggiosa dei Brianzoli o la possibilità di rimanere a casa in rival adriatico. Con il Pescara già alla ricerca di un terzino sinistro, l'eventuale defezione di Delgrosso aprirebbe una voragine nel ruolo, specie se Elisalde, che terzino puro non è, dovesse essere ceduto alla Juventus. Sempre col Benevento il Pescara si è informato, circa il 25enne Gianluca di Chiara, e non è da scartare l'ipotesi di un ritorno di fiamma per Giovanni Pinto, che ha trovato spazio nel Biancazzurro nell'ultima parte della stagione appena chiusa, prima di rientrare per fine prestito al Parma. Tornando a potenziali movimenti in entrata, il presidente Daniele Sebastiani ha ribadito il forte interesse verso l'esterno Gennaro Tutino e il regista Luca Palmiero, reduci entrambi da una brillante stagione in B al Cosenza ed ora tornati per fine prestito al Napoli. Sebastiani è intervenuto alla trasmissione Si gonfia da rete su Radio Marte. Palmiero e Tutino, il Napoli ha giovani importanti e se vuole farli giocare, ha detto il presidente del Pescara, potrebbero venire da noi. Hanno già fatto vedere qualcosa in B, sono due profili di prospettiva e ci potrebbero aiutare nella scalata in Serie A. Sono un po' scaramantico e fare operazioni con Napoli ha sempre portato bene a entrambe le società. Più in generale, Sebastiani ha aggiunto, speriamo di tornare presto in Serie A. Ci proviamo ogni anno, ma la Serie B è difficile perché tutte vogliono fare il salto. Quest'anno è successo che nella semifinale di ritorno dovevamo metterci più attenzione, ma ci riproveremo. Adesso siamo alla Serie C in Casa Teramo. Quello di Carlo Ilari potrebbe non essere l'unico ritorno dopo un'esperienza sfortunata. Nelle scorse ore, infatti, il tecnico in pectore dei biancorossi Bruno Tedino ha avuto un contatto telefonico con il centrocampista del limolese Federico Carraro che nella stagione 2016-2017 non ebbe particolare fortuna. Con il diavolo Jacopo Forcella. Federico Carraro è il nome nuovo in Casa Teramo. Il centrocampista del limolese che ha appena salutato Alessio Dionisi, destinazione Venezia, potrebbe essere il secondo ritorno dopo quello di Carlo Ilari che tra domani e l'inizio della prossima settimana dovrebbe firmare il contratto con la società di Franco Iachini. Carraro è l'idea principale stanti le difficoltà di arrivare ad Antonio Vacca del Parma. L'ingaggio dell'ex casertana è elevato, la quadratura con i gialloblu non è semplice da trovare. Ed ecco che, magari anche attraverso l'indicazione del neo di esse lagunare Fabio Lupo, Tedino ha chiamato personalmente il ragazzo per informarlo della volontà da parte del Teramo di riportarlo nella piazza in cui giocò. Poco e con scarsi risultati nella stagione 2016-2017. Due reti, uno in campionato col Forlì e uno in Coppa Italia con l'Alessandria, ma in una stagione travagliata con tantissimi cambi di guida tecnica che non consentirono a Carraro di esprimere il valore, poi rivisto nuovamente dopo il trasferimento al limolese l'anno successivo, nel quale il centrocampista ripartì da un gradino più basso, la Serie D, Girone D. Il salto di categoria in Lega Pro è un'annata di altissimo profilo per il Padovano, che nell'esperienza in Manco Rosso fu anche condizionato da qualche stagione. Indicazioni di Camini per il suo tecnico ce la faccio fino alla fine del primo tempo. Del Teramo, che vorrebbe provare a rilanciare quelle che furono idee per una mediana costruita per Lamberto Zauli, che però non ebbe troppa fortuna durante la stagione. Carraro, Ilari con Peterman, che veniva dal Palermo, dovevano rappresentare il blocco centrale del campo, che fu corretto, in corso d'opera con l'arrivo di Mirko Spighi preso dalla spalla a gennaio. Ora Carraro può tornare per completare quel percorso di riscatto nella piazza in cui non si è espresso come avrebbe voluto. Intanto sul fronte allenatore è prevista a breve la comunicazione dell'esonero di Agenore Maurizzi, passaggio obbligato per la società che lunedì ufficializzerà Bruno Tedino, che lavorerà in campo ma che per il momento si muove anche sul mercato, con l'ausilio dei dirigenti del Teramo per avere una squadra competitiva allo start del campionato. Adesso il basket. L'esterno dell'amatori Pescara ripercorre alcune delle tappe salienti di una stagione che ha portato la squadra alla promozione in A2 con Fida, che gli piacerebbe restare anche nella prossima annata. Ascoltiamolo nel servizio. Il giorno della festa, il giorno dell'abbraccio con i tifosi dopo la promozione in Serie A2. Alessandro Voti, quali sensazioni? Bellissime immagino. Sì, a distanza di una settimana stiamo finalmente realizzando quello che abbiamo fatto, quindi essere qui con tanta gente che ci ha accolto e che ha creduto insieme a noi in questa impresa è davvero bellissimo. Ci avete creduto fino alla fine, ma non è stata questa una stagione facilissima perché in un periodo storico del campionato c'è stato anche qualche problema. È stato importante però in quel periodo tenere duro. Sì, eravamo partiti con grande fiducia, grande voglia di fare, infatti nel girone d'andata comunque ci siamo qualificati col secondo posto, arrivando quindi in Coppa Italia facendo un filotto di vittorie di 10 consecutive. Quindi eravamo partiti sicuramente bene per poi trovare qualche problema nel girone di ritorno. Però ci siamo compattati e con i nuovi inseriti abbiamo sicuramente fatto un salto di qualità che ci ha permesso di arrivare bene a questa Final Four e a vincere. L'arrivo alla Final Four, la vittoria con Salerno, la svolta della stagione, in quella parte della stagione è stato il successo ottenuto in una delle due gare giocate in campagna. Sì, siamo stati bravi, devo davvero complimentarmi anche con i miei compagni perché abbiamo tutti creduto in gara 2 di poterla portare a casa e quindi di annullare il fattore campo di Salerno che era una squadra costruita per vincere e che sicuramente aveva i pronostici dalla loro parte. Quindi bravi noi a crederci, a condurre per tutta gara 2 e poi a Pescara abbiamo chiuso. Si guarda ora e si pensa alle vacanze giustamente, però c'è anche la prossima stagione da preparare, Alessandro Potine sterà a Pescara e questo è il tuo desiderio, ho già parlato con i dirigenti. Sono giorni importanti questi perché comunque bisogna valutare tante cose, la società è sicuramente già in moto per pensare alla prossima stagione. A me farebbe sicuramente piacere perché comunque abbiamo guadagnato sul campo questa possibilità e parlerò nei prossimi giorni con la società, se ci sarà modo sarà bello. Cambiamo ancora a disciplina, adesso parliamo di ciclismo. Conto alla rovescia per i campionati italiani di ciclismo femminile su strada che partiranno esattamente tra un mese da Notaresco, un evento sportivo di livello nazionale che vedrà impegnate le categorie delle donne juniores e delle donne elite che coinvolgerà 5 comuni terramani. Il servizio. Esattamente tra un mese, il 28 luglio prossimo, si terranno a Notaresco, Castellalto, con transiti a Cellino, Attanasio e Atri, i campionati italiani su strada di ciclismo 2019, dedicati alle categorie donne junior e donne elite. La provincia di Teramo si tinge dunque di rosa per il dodicesimo trofeo ferrometal sotto legida della Federazione Ciclistica Italiana. Da due o tre anni che ci siamo dati al febidile, abbiamo organizzato a luglio 2017 una tappa del Giro d'Italia ed è lì e la federazione ha voluto assegnare a noi i campionati italiani donne per la grande riuscita di Roseto. Come si svolgerà questa manifestazione? La manifestazione si svolgeranno le partenze a Notaresco, mentre gli arrivi saranno a Castelnuovo. Un percorso per passiste veloci, attraverseremo 5 comuni, il comune di Atri, quello di Morrodoro, quello di Cellino, Notaresco e Castellalto e il clou. Quante donne juniors e quante donne elite? Avremmo circa 250 atleti, 110 elite e un centinaio di juniors. Campionessa europea in carica di ciclismo femminile su strada è Marta Bastianelli, laziale di nascita ma ormai teramane abruzzese di adozione. Campionessa europea in carica, ma che cosa ha vinto? Nel 2007 è un campionato del mondo, quest'anno sette vittorie stagionali, tra cui una delle gare più importanti della visione del nord, che sarebbe il Giro delle Fiandre. Ci aspettiamo anche una maglietta tricolore, ma comunque sarà, penso e spero, una bellissima manifestazione, quella del 28 luglio, che si svolgerà nel comune di Notaresco e Castelnuovo. Quindi mi auguro che possa essere poi qualcosa di emozionante. Quando hai iniziato a pedalare? Ho iniziato all'età di 8 anni, adesso ne ho 32, quindi non faccio i conti, ma più o meno, diciamo che sono un po' di anni che pedalo. E' iniziato così il countdown per la corsa più importante nel calendario femminile di ciclismo su strada, quello che vale l'ambita maglia con i colori della bandiera italiana e che partirà da Notaresco. Notaresco, capitale del ciclismo femminile, un orgoglio per la provincia di Teramo e per l'Abruzzo. Sì, è una provincia che si tinge di rosa, torniamo con un campionato nazionale di donne, nel nostro paese, non solo perché toccherà Castellalto, toccherà Cellino, la nostra provincia. E' bello perché abbiamo in casa una pluri premiata, la Bastianelli, e proprio a casa sua parte questo giro che oramai ha un'importanza nazionale. Ed è bello perché stiamo lavorando da un mese, perché chi verrà nel nostro territorio percepirà meno buche possibile. Questo è un messaggio che io do perché riqualifichiamo i territori, perché vogliamo far capire a chi viene, che trova un paese bello, ecco la percezione del decoro e della bellezza di un territorio. E a proposito di ciclismo, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione Velo, in cui si parlerà anche dei campionati italiani di ciclismo femminile su strada, ma non solo, con il patron Luciano Rabbottini e Jacopo Forcella alla conduzione. è tutto per quanto riguarda questa edizione del telegiornale. Il prossimo aggiornamento è alle ore 19. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.